Siamo con il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva e in questo momento si sta svolgendo l'edizione di Battiti Live, può dirci una sua breve? Siamo felicissimi di aver portato a Gallipoli un evento di questa portata, di grandissimi artisti che cantano da Gallipoli e che propongono il nostro territorio, la bellezza del mare e del centro storico fanno da cornice all'evento più importante italiano della nostra morte, quindi siamo soddisfatti e siamo contenti di poter ospitare un evento così importante. Due salate con il pienone, contento, soddisfatto, tutto bene? Sì, contentissimo, abbiamo organizzato la città che ovviamente soffre una mole così importante di misure e di diversioni. Ma abbiamo organizzato il piano perfetto, 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 il piano perfetto. Siamo insieme a tutti, come tutti i ragazzi, abbiamo un altro gruppo extravola in vita, di giovani che festeggono il mio, che sono tornati alla normalità e che cantano la nostra musica italiana. Sì, tutto veramente bellissimo, grazie signor sindaco. Grazie a tutti. Buonasera Galipoli Vieni tesoro Forte, più forte, più forte Bellissima Vista H7 Caima Gary Ponte Doemi Darja e D'Amico Danza Alredo Terè Elobi Tanamari Barasatei E Fane E Fane Merlu E Fane E Fane E Fane